Lo scontro salvezza della ventisesima giornata di Serie C tra Emolese e Cesena va ai bianconeri con il punteggio di 1-4. Allo Stadio Galli i ragazzi di Azzori gestiscono la prima mezz'ora con la conclusione di Ferretti che spaventa Marsona al settimo. Al ventunesimo Caturano in corsa si divora questa occasione molto ghiotta, dall'altra parte Garatori ruba a palla Valeri e mette cattivi pensieri a Marson. Gli uomini di William Viali si portano in vantaggio al trentasettesimo con Zerbin che spedisce in rete il traversone di Zampano dalla destra. L'esterno si infila tra i due centrali e non perde una Rossi da ottima posizione. Replica dopo tre minuti da calcio di rigore Caturano. In precedenza Valeri era stato stesinaria dall'ex Garattoni. Nella ripresa Limonese protesta fortemente per la terza rete di Zerbin, viziata forse dalla caduta di Caturano su Alimi che ha spalancato le porte all'esterno del cavalluccio capace di infilare la doppietta personale. È un Cesena cinico e famelico, infatti Caturano al cinquantanovesimo scappa in velocità e con una stoccata cala il poker di giornata. Inutile al settantottesimo il gol della bandiera di Valò che buca Marsona sul suo palo. Grazie a questo successo, primo di Viali, il Cesena sale a quota 30 punti in classifica.